Musica Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento del venerdì con il bollettino di Toscana Neve. Sono giornate ancora con temperature superiori alle medie, queste sulle nostre montagne. Oggi venerdì 26 gennaio, ancora perturbato, miglioramento è atteso da domani. Segnaliamo che a causa delle alte temperature, delle piogge, del successivo rigelo dei giorni scorsi, gli itinerari di sci fuori pista risultano molto pericolosi per presenza di neve molto ghiacciata. A questo proposito il Comune di Abitone Cutigliano ha anche emesso un'ordinanza per il divieto di sci fuori pista su tutto il territorio che verrà naturalmente revocata quando le condizioni ritorneranno normali. Per quanto riguarda gli escursionisti, attenzione anche qui all'uso delle ciaspole, un attrezzo ideato per escursioni con neve fresca, escursioni nei boschi ma inadatto, addirittura molto pericoloso con neve ghiacciata come in questi giorni. Le condizioni dell'alta montagna in questi giorni richiedono l'uso di attrezzatura alpinistica, piccozze e ramponi e anche la guida di persone esperte. Vediamo adesso invece il nostro bollettino. All'Abitone, altezza neve 20-110, gli impianti aperti sono 15 su 17, sono aperti gli snow park in Val di Luce e al Pulicchio ed è stato tolto il senso unico alternato sulla statale 66 all'altezza delle piastre. Informazioni multipassabetone.it All'Amiata, altezza neve 5-80, gli impianti aperti 3 su 8, sono le seggiovie Cantore e Macinaie e la sciovia Jolly. Sono possibile ulteriori apertura per il fine settimana, domenica doppia navetta Cantore Vetta. Informazioni a miataneve.it Cutigliano doganaccia, altezza neve 30-50, gli impianti sono tutti aperti, le informazioni doganaccia2000.it In Garfagnana neve 20-50, sono aperti 3 impianti al casone di Profecchia e tutti tracciati per lo scinordico al passo Radici. A Zeri la neve 10-20, gli impianti saranno aperti da sabato in base alle condizioni meteo. Veniamo adesso agli appuntamenti. In Garfagnana il gruppo Guide Wild Trail propone sabato e domenica un'escursione guidata al rifugio Burigone. Escursione guidata anche con l'ufficio Guide, con partenza da San Pellegrino in Alpe. Per l'agonismo il calendario regionale si ferma per questo fine settimana. Si ripartirà la settimana prossima con le gare del trofeo Toscana Neve per allievi e ragazzi e domenica 4 febbraio le selezioni regionali per il Pinocchio sugli sci. L'11 febbraio torna la gara di solidarietà del trofeo Fiorenzo Fratini in Val di Luce. Ultima notizia, ultima segnalazione. Segnaliamo appunto che fino al 28 febbraio è possibile iscriversi al corso per maestri di sci presso l'agenzia formativa Ascom di Pistoia. Ed è tutto per questo bollettino. Una buona domenica, un buon fine settimana sulle nostre montagne. Grazie a tutti.